Musica Secondo la tradizione, l'origine del carnevale va cercato nelle cosiddette propaggini. Il corteo spontaneo che nel 1394 i contadini di qui organizzarono in occasione della traslazione delle reliqui di Santo Stefano. La più grande festa del calendario di Putignano prende forma dentro sette capannoni. Siamo un gruppo di 15 persone, la sera ci riuniamo tutti insieme in questo spazio per andare avanti con la costruzione del carro. I capannoni gestiti dalla Fondazione Carnevale di Putignano sono il luogo migliore in cui vedere all'opera i più bravi maestri cartapestai. L'arte della cartapesta innanzitutto è fatta di tanto sacrificio. Utilizziamo materiali poveri, cosiddetti poveri e caldi. Poveri e caldi proprio perché molto spesso sono materiali di riciclo e comunque sono materiali antichissimi. Pensiamo alla carta, pensiamo alla colla che utilizziamo fatta di acqua e farina, pensiamo insomma al ferro. Tutti i materiali comunque che devono essere lavorati a mano da gente anche di grande esperienza e di spiccato intelletto. La lavorazione della cartapesta è molto complessa. Basta pensare che per formare un maestro cartapesta ci vogliono all'incirca 20 anni. Si parte da una scultura in argilla, si lavora l'argilla su dei telai. Quando la forma in argilla è pronta, è pronto, si dice il positivo. Da quel positivo si cerca di ottenere un negativo rigido. Il negativo rigido si ottiene grazie alla creazione su queste forme in argilla di stampi di gesso. Gli stampi di gesso quindi ci danno il negativo di quello che avevamo realizzato in argilla e che avevamo chiamato positivo. Questi negativi in gesso, che sono praticamente delle controforme di quello che avevamo realizzato, vengono riempite con tanti pezzettini di carta, un lavoro molto minuzioso, fino a realizzare uno strato praticamente in cui si susseguono 16 strati di fogli di giornale. Quindi queste sono operazioni molto lente che vengono fatte dai maestri cartapestai. La sera la forma viene messa in camere di essiccazione, il giorno dopo praticamente la carta è essiccata e quindi questa carta che era stata compressa nei calchi può essere estratta dai calchi e poi utilizzata per gli assemblamenti successivi. Per me l'allegoria del car è fondamentale, cerco di non banalizzarla mai perché la ritengo proprio una grande opportunità. Visto come si costruiscono i carri, è indispensabile fare conoscenza con Farinella. La maschera ufficiale del Carnevale di Putignano è stata ideata negli anni 50 dal grafico Domenico Castellano. Il nome l'ha preso a prestito da quello che qui è il cibo per antonomasia, la Farinella appunto.